In quanti si può giocare a padel? Allora il padel si gioca esclusivamente in quattro. È solo in quattro? Poi se c'è quella partita che ti manca il quarto, potresti giocare anche in tre. Cosa succede? Che è chiaro che se io fossi da solo nella mia metà campo non posso pensare di giocare a tutto campo avendo anche le pareti. Perché sarebbe peggio che giocare a tennis. E allora in quel caso io mi dovrei spostare su ogni battuta che ricevo su un lato diverso del campo. Tu batti a destra, io ricevo a destra. Il tuo compagno batte a sinistra e ricevo a sinistra. In quel momento gioco solo sulla mia metà campo. E devo dire che questo tante volte ti avvantaggia anche. Ti avvantaggia da singolo? Da singolo, sì. Perché comunque gli altri sono obbligati a giocare solo in una metà campo. Devono giocare di precisione. E questo succede anche se ci troviamo a giocare solo in due. Che giochiamo il crusado, come viene definito. Per cui battiamo da destra, ricevi a destra. Poi seconda battuta a sinistra, riceve a sinistra. E ti permette di giocare. Ma il vero gioco del padre è solo in quattro. È a quattro. Ma il vero gioco del padre è solo in quattro. O инструмент che lo metà, perché? E io fai termoporte. E io fai termoporto. Che metà. E io fai termoporto dell'idgetica. E io fai termoporti di euro. E poi CAMPE.